per chiudere in bellezza chiamo sul palco Giulio Azzolini Giulio c'è? eccolo, ok, e Raffaele Giambundo ecco lì ecco, rispettivamente free e solo a tutti grazie, grazie non ti faccio perdere il treno Giulio, sei tranquillo dai sta sul pezzo? sta sul pezzo del treno? ci hai pensato? tutti quanti ma ci sbrighiamo allora, stamattina abbiamo parlato di sostenibilità come si può applicare al lavoro quotidiano? c'è un esempio di sostenibilità che mi ha colpito che è la sostenibilità FRIM chiedo a Giulio quindi di raccontarci in breve in cosa consiste e quanto può influenzare sul mercato così uniamo le due domande esatto, questo tipo di iniziativa allora intanto sono stato molto colpito quest'anno dal fatto che FRIM ha ottenuto tanta attenzione proprio su questo progetto di sostenibilità e mi fa molto piacere è un progetto a cui in realtà lavoriamo da tre anni e lo raccontavo prima Paolo Leccese e in realtà abbiamo deciso di parlarne solo quest'anno perché abbiamo incominciato a raccogliere i primi risultati dopo tre anni di impegno e sostenibilità lo dico per Raffaele soprattutto che non lo sa bene e sostenibilità RAA vuol dire tante cose quindi non vuol dire solo ecologia vuol dire anche fare le cose in un certo modo avere determinate attenzioni sociali per i lavoratori e sul appunto come si svolgono le attività e come si mettono a terra quindi abbiamo fatto delle cose piccole che ci potremmo effettivamente permettere di fare per ottenere risultati e quindi abbiamo per esempio spostato tutti i server dei nostri software delle nostre applicazioni del nostro MLS tre anni fa abbiamo preso queste decisioni di spostarli in Germania in una server farm completamente alimentata con energia idroelettrica e sono tre anni che ogni anno contribuiamo al risparmio di 60.000 e rotte tonnellate di CO2 l'anno semplicemente per questa decisione di aver spostato i server in quella location in realtà faremo di meglio quest'anno nel 2023 perché ci sposteremo completamente su Google che è carbon free dal 2007 quindi diciamo c'è un'attenzione ulteriore e abbiamo nel 2019 dato la possibilità a tutti i nostri affiliati di prendere una smart elettrica lo sappiamo gli agenti immobiliari vanno in giro per la città facendo appuntamenti e quant'altro ci sembrava giusto dargli un contributo economico dicendo se scegli una macchina elettrica la smart in particolare ma in generale un'auto elettrica noi di Frim ti paghiamo ti diamo un contributo a sostegno di questa iniziativa e in tre anni abbiamo fatto 50-60 macchine diciamo così quindi ci sembrava giusto poterlo dire abbiamo diciamo portato in azienda quella cultura che dovremmo avere tutti a casa e quindi della raccolta differenziata raccolta differenziata non c'è la plastica negli uffici quindi ci sono le borracce ecologiche dipendenti e collaboratori e stiamo lavorando per cercare di portare queste cose questi valori anche all'interno delle agenzie non è facile perché sulla carta siamo tutti d'accordo che stiamo facendo delle cose piccole importanti è difficile che poi tutti siano operativi su questo ci sono altre cose che facciamo mi sfuggono ovviamente anche perché sarebbe troppo per me poi tutto insieme il fatto che l'azienda per esempio da due anni a questa parte dà completa libertà per l'organizzazione di smart working a tutti i dipendenti quindi ognuno è libero di organizzarsi con il proprio responsabile e decidere come svolgere la propria dove e come svolgere la propria attività quindi ecco sostenibilità e anche far stare bene i tuoi collaboratori farvi vivere la vita e il rapporto con il lavoro che loro desiderano e non che l'azienda desidera in assoluto insomma piccole abitudini piccole consuetudini che possono essere adottate anche in qualunque dimensione ecco agenziale che però possono fare la differenza la differenza è fra 0 e 1 non fra 1 e 10 nel senso quindi una piccola abitudine positiva che però ha un impatto ecco anche poi su lungo periodo assolutamente stiamo semplicemente lavorando proprio per ridurre l'impatto dell'azienda su l'ambiente in senso lato e dall'anno prossimo cercheremo di calcolare anche quanto impattiamo con i nostri eventi cercando di restituire qualche cosa all'ambiente all'ambiente era in questo ambiente questi due li assumo poi una volta facciamo uno sketch ok ok sono gli anni di amicizia lo so lo so lo so anche se ci occupiamo di cose diverse adesso allora giudio grazie raffaele beh di sola fitipay vi abbiamo già parlato lungamente cosa avete fatto una roba meravigliosa io ero interessato però più che altro a capire un po' di backstage cioè qual è stata la parte più complessa dello sviluppo della piattaforma sola fitipay cosa vi ha tolto il sonno perché so che avete passato un po' di notti in sonno e cosa avete imparato come startupper ecco intanto inizio rispondendo così la mia è stata una scelta strategica cioè capendo che questo progetto ci avrebbe tolto il sonno a tutto il team di lavoro io ho deciso di dare vita alla seconda genita così unendo le due cose sai non dormi per un motivo almeno e sono diventati due scherzi a parte quello che ci ha tolto veramente ore e ore di lavoro non la posso sintetizzare con la digitalizzazione dell'intero processo di locazione vado ancora un po' in più nello specifico avremmo potuto prendere in esame e rendere disponibile per il proprietario e per l'inquilino solo un tipo di contratto magari il 4 più 4 che è quello standard quello più di uso comune scaricabile anche da Google no invece no che abbiamo lavorato tantissimo su un algoritmo che permette di generare un calcolo del canone concordato affidabile e attenzione unito a un prospetto che chiamiamo rental report che restituisce all'investitore immobiliare non parliamo più di proprietario parliamo di investitore immobiliare la convenienza fiscale più idonea rispetto alla sua esigenza non è in assoluto detto che il canone concordato con cedolare secca possa essere la soluzione per tutti quindi noi rispondiamo proprio con un report sulla convenienza fiscale più adatta e credimi che prendere accordo territoriale perché poi in Italia non è che è un disastro è un disastro è un accordo vale per tutto il territorio nazionale abbiamo preso accordo territoriale per accordo territoriale lo abbiamo digitalizzato e tieni presente che ci sono molti l'aliquota l'IMU per esempio quelle regionali comunali cambiano annualmente quindi noi abbiamo preso non solo abbiamo fatto un lavoro in questo momento di digitalizzare tutti gli accordi ma abbiamo preso anche un impegno con il nostro pubblico con la nostra utenza che è quello di tenere queste informazioni aggiornate anno dopo anno in più aggiungo e concludo questo non è un processo che mira alla disintermediazione fine a se stessa noi abbiamo voluto comprendere nello studio e nell'analisi di questo progetto tutto il complesso mondo degli affitti chiaramente avendo come protagonista il nostro network la nostra rete quindi tu immagina che è vero che un proprietario o un inquilino possono portare avanti il processo totalmente in maniera digitale comodamente da casa dicevo questa mattina però in ogni fase di questo processo il nostro rental property manager non solo deve avere la cognizione di causa di quello che sta succedendo ma deve poter intervenire per andare a risolvere eventualmente piccoli ostacoli o o incagli nell'intero processo quindi tu immagina che ci sarà un'interfaccia dedicata al pubblico ma un'interfaccia molto importante dedicata all'RPM che interagirà con tutte le varie transazioni che passeranno attraverso la nostra piattaforma sembra facile ma di fatto non lo è non lo è stato e non lo è non lo è stato e non lo è per fortuna noi lo abbiamo disegnato su carta e poi ci sono gli sviluppatori ma ecco anche per degli sviluppatori entrare nelle dinamiche molto complesse del mondo della locazione le cui normative sono in continua giornata mi spiega di tutto mamma mia è stato ore e ore di chiacchiera però dicono che gli start-up si tengono in forma grazie al poco sonno quindi per ricollegarmi abbiamo impersonalizzato perfettamente questa figura bene grazie grazie a voi grazie un lavoro grazie 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 a voi